Tutto a Q.it è il primo e-commerce locale della provincia dell'Aquila, 1500 negozi per iniziare, un sistema che permetterà di valorizzare i negozi locali di vicinato con uno strumento globale, acquistando con un semplice clic. Un sistema pensato pure per dare visibilità ad artigiani e professionisti che spesso restano ai margini. Il progetto, illustrato all'auditorium del parco, alla presenza di sindaci e amministratori di diversi comuni della provincia, è un progetto imprenditoriale nato in collaborazione con Daniela Bontempo, imprenditrice aquilana, raccolta e sostenuto da Conflavoro e CNA. Mentre quando uno compra su un sito tradizionale si trova a comprare ad un'azienda direttamente, invece da noi, oltre a trovare comunque le medesime offerte e i medesimi prezzi che trova su tutti gli altri e-commerce, troverà anche la possibilità di poter cambiare il prodotto con altri prodotti di altre marche all'interno della stessa attività. E quindi anche la certezza di conoscere la persona che c'è dietro quella pagina è dire benissimo, compro, perché tanto sono sicuro di avere a che fare con Tizio o con Caio nel caso dell'Aquila, di Avezzano, di Sulmona o di Castel di Sangro. La prima cosa è quella chiaramente di creare condizioni attrattive per un territorio che soffre ovviamente quello che è un male nazionale, internazionale. L'altra cosa importante è quella di far sì che la piccola impresa, chiaramente, che oggi ha delle difficoltà enormi al confronto di altre situazioni di disastro, oggi abbia dei punti di riferimento. Gli esercenti potranno aderire compilando il forum sulla piattaforma. La società aquilana di Riccardo Cicerone si è occupata della creazione del sito con il consulente informatico Luigi Tessitore e la società di Avezzano di Michele Fazzi che si occupa di marketing strategico. Ogni esercenti avrà la propria vetrina personale e potrà gestire il proprio shop, oltre ad avere uno store comune con i consumatori che potranno effettuare i cambi direttamente nei negozi per sei mesi. Le inserzioni saranno gratuite in segno di aiuto all'imprenditoria locale, vessata ulteriormente dal Covid. È sì una piattaforma online che permette quindi di vendere come tutti i siti di commerce tradizionali, però in realtà riporta su piattaforma web il negozio vero e proprio dei commercianti, quindi riproduce una vetrina virtuale che permette sì di vendere online, quindi comprando con una transazione digitale e ricevendo i prodotti spediti a casa, ma anche di consultare la vetrina e se vogliono i consumatori uscire di casa e andare direttamente in negozio e acquistare il prodotto fisicamente.